Crediti di imposta sugli incentivi fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e super bonus 110%, due le mozioni discusse e approvate in aula. Nella prima, presentata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Noferi, si chiede alla Giunta regionale di attivarsi con il Governo per rimodulare la scelta dello stop della cessione dei crediti di imposta relativi agli incentivi fiscali del super bonus 110%. Speriamo che sia un blocco di questa decisione presa dal Governo il 16 febbraio, che in un modo completamente inatteso ha cancellato questo vantaggio fiscale di cui stavano soffruendo imprese e famiglie. Io ho sottolineato in Consiglio regionale che questa era una misura presa dal Governo di Giuseppe Conte alla fine della pandemia, in un periodo in cui il Paese era preoccupato e spaventato di fronte anche alle incertezze del futuro. È stato un modo per sbloccare l'economia, i vantaggi e i numeri, lo dicono chiaramente, ci sono stati, a differenza di condoni che invece si vede approvare senza nessuna ragione dal Governo attuale. Quindi veramente questo comportamento di decidere dalla sera alla mattina di cancellare un provvedimento che ha portato un incremento notevole in posti di lavoro e in PIL ci è sembrata una cosa completamente fuori luogo. E poi mi domando anche come il Ministro Giorgetti e tutto il centro-destra si accorgano adesso della insostenibilità di questa misura quando erano anche loro nel Governo Draghi che ha continuato ad alimentare questo provvedimento del superbonus. Quindi noi abbiamo chiesto, come Momento 5 Stelle, al Governo di ripensare all'annullamento di questa misura e anche magari fare una concertazione con le parti interessate, ma anche di prevedere come è stato ventilato da alcuni rappresentanti del settore economico interessato, quindi dell'edilizia, di permettere alle imprese, alle piccole imprese, ai condomini, alle famiglie di non far parte di questo provvedimento quando le loro dichiarazioni di redditi non hanno la capienza necessaria. Nell'impegnativa si chiede anche alla Giunta di attivarsi con il Governo per fare in modo, come prospettato dai rappresentanti delle imprese del settore, di eliminare dal provvedimento famiglie, condomini e piccole imprese con pratiche già in corso che non possono scalare il credito fiscale dalle loro dichiarazioni di redditi per incapienza. Nella mozione del Partito Democratico si chiede alla Giunta di attivarsi con il Governo e in conferenza Stato-Regioni per fare in modo che venga rivista quanto prima la decisione di bloccare in modo permanente e generalizzato la cessione dei crediti di imposta relativi agli incentivi fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e super bonus 110%, evitando di danneggiare il settore dell'edilizia e l'indotto. Noi ci siamo messi in ascolto dei territori, delle imprese, ma come voi sapete molto bene, anche di tantissime famiglie che dopo i provvedimenti assunti dal Governo sono rimaste assolutamente sconcertate e c'è una crescente paura e un timore che questi provvedimenti possano davvero provocare guai ancora più grossi e rilevanti. Da qui la decisione di presentare una mozione con la quale noi chiediamo alla Giunta di interloquire con il Governo sia perché sia valutata la possibilità anche di tornare indietro rispetto a alcuni provvedimenti e poi si discuta nella conferenza Stato-Regione o nella conferenza Unificata affinché si possa valutare anche la possibilità da parte delle regioni e degli enti locali di procedere anche per quella strada che era stata individuata da altre regioni e da altri enti locali e che il provvedimento del Governo, con una decisione che ha lasciato sorpresi davvero tutti, perché si parla molto di autonomia, ma questo provvedimento invece ha bloccato, ha zerato anche l'attività e soprattutto l'autonoma deliberazione di questi enti e questa mozione serve per anche portare questo tema all'interno del Consiglio regionale e c'è stata una bella discussione e siamo contenti dell'approvazione. Critico il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi. Perché si continua a far finta di non capire che l'operazione Superbonus ha generato circa 105 miliardi di crediti fiscali di cui 77 non hanno ad oggi copertura da parte dello Stato, perché il meccanismo di cessione infinita di questi crediti ha creato uno scompenso, rischia di creare uno scompenso nei conti pubblici che non può essere per esempio sanato dall'acquisto degli enti locali e delle regioni come era stato nelle settimane scorse paventato, perché questo rischierebbe di pesare sul debito pubblico italiano non essendo cioè una forma di finanziamento immediatamente liquidabile gli organismi di controllo europeo avrebbero potuto considerare l'acquisto da parte delle regioni e degli enti locali come un aumento dello stock di debito complessivo del sistema pubblico italiano con immediate ricadute in termini negativi dal punto di vista della quotazione del Paese e naturalmente dell'appetibilità dei nostri titoli pubblici inoltre il Governo è intervenuto su due altri aspetti per noi fondamentali il primo togliendo la responsabilità penale solidale che bloccava le banche nel riacquistare questi crediti laddove ci fosse stato qualche problema, cioè attraverso un meccanismo immediato e automatico di responsabilità penale che invece il Governo ha tolto l'altro con la possibilità di spalmare questi crediti in 5-10 anni perché non esiste lo spazio fisico e finanziario per restituire immediatamente al circuito finanziario stesso questi 77 miliardi di questa situazione molto grave qualcuno dovrà prima o poi assumersi le responsabilità nell'immediato l'ha dovuto fare questo Governo ma già il Governo Draghi e anche lo stesso Governo Conte erano intervenuti cercando di limitare le truffe che ad oggi ammontano a circa 10 miliardi di accertato è una situazione potenzialmente esplosiva naturalmente coloro che avevano fatto i 110 fino ad oggi e che hanno i titoli edilizzi rilasciati fino al 16 di febbraio avranno la possibilità di usufruire del super bonus mentre per mettere anche le famiglie in condizione di fare valutazioni più appropriate sui costi è stata lasciata la possibilità di fare l'operazione fino al 90% perché è chiaro che il meccanismo del 110 spingeva ad alzare il valore delle spese anche per le consulenze tecniche perché tanto pagava Pantalone Pantalone oggi non ha i soldi per pagare e questo extra profitto che tanti stavano facendo va bloccato nell'interesse del Paese Una targa alla centrale operativa del 118 Pistoia Empoli per gli ottimi risultati ottenuti dalla centrale operativa diventata riferimento nazionale come cross mercoledì 1 marzo al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso ha avuto luogo la cerimonia di conferimento della targa da parte del Consiglio regionale è stata consegnata a Piero Paolini direttore della centrale operativa 118 Pistoia Empoli Questo è un riconoscimento a un'attività di punta perché è quella che magari ha più visibilità anche sui media e che esce da confini regionali siamo stati gli attori di sfida importantissime durante la pandemia ricordo che noi abbiamo fatto operazione di Medevac che vuol dire trasferimento di pazienti pazienti gravi, molto gravi tutti da terapia intensiva la maggior parte con il Covid ma poi anche i pazienti che sono venuti dall'Ucraina pazienti dalla Turchia, pazienti dalla Libia insomma un'operazione che ha riguardato quasi mille pazienti che è la più grande operazione che c'è in letteratura dopo la Seconda Guerra Mondiale A consegnare il riconoscimento il Presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo per una realtà importantissima durante la pandemia ma non solo Un modo per dire grazie alle volontarie, ai medici, agli infermieri mi hanno donato questa maglietta i veri supereroi sono loro per tutto quello che hanno fatto che hanno fatto durante la pandemia ma anche perché ci rendono orgogliosi di quanto è bella la Toscana e la portano nel mondo noi dobbiamo continuare ad investire su di loro dobbiamo costruire le condizioni perché si innovino anche con nuove tecnologie perché davvero è un gioiellino della nostra regione che va preservato e valorizzato Durante l'emergenza sanitaria Covid-19 nel 2020 la centrale Cross di Pistoia Impoli ha gestito per 67 giorni tutti gli interventi anche al di fuori della regione toscana medici, infermieri e operatori tecnici hanno lavorato nei giorni della pandemia senza sosta dedicandosi al sistema tutto questo ha permesso di non avere criticità immenso anche l'apporto arrivato dal mondo del volontariato i volontari impiegati sono stati 23.800 un riconoscimento importante da parte del Consiglio a una struttura come Cross che ha gestito emergenze in Toscana a livello nazionale ed internazionale Un motivo d'orgoglio, un elemento di innovazione che vogliamo si rafforzi perché è un elemento fondamentale che abbiamo visto essere determinante in tanti momenti purtroppo drammatici del nostro Paese a cominciare dall'emergenza Covid-19 questo è un riconoscimento a tutti i professionisti al coordinatore ovviamente a tutti i volontari che per noi sono una ricchezza fondamentale che contraddistingue la nostra regione Questa mattina un giusto riconoscimento ha un orgoglio toscano la centrale non è nata per volontà dell'istituzione regione ma è stata attribuita alla regione toscana dalla conferenza Stato-Regioni dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale perché a Pistoia abbiamo avuto per il lavoro quotidiano di tante donne, di tanti uomini del volontariato, operatori sanitari diretti da Piero Paolini e dal suo staff l'origine, la creazione di una struttura che è unica nel suo genere e anche un modello da replicare in altre parti del nostro Paese La nostra centrale è un fiore all'occhiello e Pistoia è stata individuata a livello nazionale dalla conferenza Stato-Regioni come una delle due centrali per le maxi-emergenze insieme a Torino Per questo motivo, essendo oggi aperta la discussione sul futuro dell'area del Ceppo riteniamo strategica quella scelta questa opportunità e quindi, oltre al plauso al dottor Paolini che ne è il direttore ai volontari e alle volontarie che tutti i giorni garantiscono all'Italia un punto di riferimento costante ad ogni orario del giorno e della notte in caso di emergenza vogliamo anche riprendere il filo dello sviluppo di questa centrale su Pistoia perché la Toscana se la debba tenere e perché la Toscana diffusa di cui tante volte parla Gianni non sia solo per le opere d'arte eppure importanti ma anche per le funzioni da distribuire sul territorio Ci rende orgogliosi non solo di essere pistoiesi ma dimostra quanto è grande il cuore della Toscana un cuore fatto di solidarietà concreta e fattiva questi uomini e queste donne ci sono sempre per dare mano nelle situazioni più difficili penso che fosse il minimo che il Consiglio regionale che rappresenta tutti i toscani dicesse a loro il grazie con un riconoscimento che non è solo simbolico ma che vuole dire che la Regione continuerà a investire in una risorsa strategica per l'interesse nazionale Presentato al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso il nuovo calendario 2023 della fondazione Cure to Children dedicato a Miss Italia Toscana per raccogliere fondi a favore dell'associazione che promuove iniziative a sostegno dei bambini che soffrono e che hanno bisogno di cure il calendario di quest'anno come detto è dedicato a Miss Italia Toscana con gli scatti realizzati da Giovanni Rastrelli durante la finale dell'edizione 2022 andata in scena a settembre a Cascianaterme il Consiglio regionale è orgoglioso di ospitare la presentazione del calendario dell'associazione Penso che ogni qualvolta un'associazione venga da noi e ci porti iniziative come queste noi dobbiamo aprire le porte dell'Assemblea legislativa perché ogni iniziativa di questo genere è un fiore che noi piantiamo in un campo che dovrebbe essere quello del volontariato del sostegno a chi soffre e ogni iniziativa di questo genere merita il plauso a Cure to Children un plauso doppio per il lavoro importante che porta avanti ormai da tanti anni un lavoro davvero che rende più bello il mondo in cui viviamo La presentazione del calendario di Cure to Children è una tradizione che si rinnova a favore di un'associazione che porta le sue cure ai bambini dei paesi emergenti Un'iniziativa che si rinnova nel tempo che viene confermata nel sostegno della volontà del Consiglio regionale della Toscana perché è un'iniziativa che supera i confini della Toscana che mette i bambini al centro che porta un messaggio di speranza in condizioni di vita di tanti bambini che magari non hanno le opportunità che i nostri hanno quindi è un messaggio che coniuga lungimiranza solidarietà ma anche tanta filantropia Questa fondazione che porta la cura ai bimbi nei paesi emergenti tumori malattie del sangue quanto è importante la solidarietà la presenza la cura attiva dobbiamo soltanto dire grazie noi che facciamo parte delle istituzioni donne e uomini a queste fondazioni che operano in modo così incisivo così generoso così in modo così determinante lasciatemi dire perché veramente c'è molto da fare per il prossimo continuo a dirlo quasi tutti i giorni la cosa principale che dovremmo fare noi dalle istituzioni è avere proprio la cura verso l'altro Nell'occasione sono stati consegnati al presidente dell'assemblea legislativa e ai consiglieri regionali i calendari di Cure to Children i fondi raccolti sono destinati al progetto di consulenza specialistica online in oncoematologia pediatrica Second Opinion realizzato grazie al contributo della fondazione Viagioni Borgogni sono oltre 16 anni che Cure to Children cura i bambini nei paesi emergenti i fondi raccolti con il calendario sono dedicati a un progetto molto ambizioso che si è sviluppato in Camerun il calendario di quest'anno è dedicato a un progetto molto ambizioso perché lo scorso anno a giugno siamo stati in Camerun dove abbiamo fatto nascere una collaborazione con un centro pediatrico locale e ci siamo fatti carico di 100 bambini inizialmente 100 bambini oncologici immaginate voi che impegno è per noi ma siamo sicuri che questo progetto rappresenterà per noi per la Cure to Children e per i nostri sostenitori l'apice del nostro successo perché portare l'oncologia pediatrica in Camerun dove non è garantita neanche una corretta diagnosi potete immaginare voi che quanta gratificazione abbiamo noi genitori della fondazione ma anche lo staff medico per aver portato l'oncologia pediatrica in un paese così in difficoltà come l'Africa l'oncologia pediatrica